Il governo è pronto a varare una mega nave quarantena per gli immigrati che sbarcano in Italia. Costo dell'operazione? Quasi 4,8 milioni di euro per 92 giorni. Più di 50.000 euro al giorno per ospitare fino a 400 persone con tanto di vitto erogato in conformità ai dettami delle diverse religioni. Capolavoro PD Movimento 5 Stelle. La nave quarantena politicamente corretta è a spese degli italiani. Lo ha scritto in un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sindaci, esponenti delle istituzioni e di diversi partiti, stufi dei continui sbarchi, oggi chiedono di fermare la tratta di esseri umani mettendo in atto un blocco navale. Magari se si fosse dato ascolto a Fratelli d'Italia avremmo fermato gli sbarchi già da anni. «Che dite, si sveglierà prima o poi anche il governo?» ha domandato Meloni in un altro post sul social network.